Ragazze, tra gli altissimi grattacieli mi aspetta un outfit di altissimo livello. Avete tre minuti. Ready? Look! Allora, Virgi, lo sfondo sono dei grattacieli e dobbiamo andare a una festa. Che ne dici se ci vestiamo abbinate? Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di simile. Va bene, perfetto. Mettiamoci all'opera. Ah, hanno già le idee chiare. Tipo questi pantaloni? No, Virgi, non... Allora, basta. Che ne dici di questo maglione vestito? Questo? Eh no, è troppo corto. Hai ragione. Niente. Cos'è questo? Questo qua ti piace? Sì. Una tuta lunga. Ho trovato queste due. Quale ti piace di più? Vabbè, sicuramente quella senza le paillettes. Finalmente! Quella è perfetta. Borchie? No. Tipo più classiche? Ok, mi piacciono. Vediamo se trovo qualcosa di simile. Queste? Quelle sono molto carine. Accessori! Guarda! Belli mi piacciono. Guarda qua. Questo è anche gli orecchini. Come possono essere le cinture? Ah, tipo questa. Questi outfit abbinati mi piacciono proprio tanto. Anche a me. Pensavo fosse una missione impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Anche per voi è tempo di scegliere il look. Avete tre minuti. Ready? Look! Allora, Giulie, dobbiamo arrivare ad un look da dieci lode per poter vincere. Ah, quindi mettiamo i voti. Perfetto, vai. Io segno tutto sul registro. Questo? Ma... sette. Ok, lo tengo, lo tengo. Questo? Due. Due, due, due. Decisamente insufficiente. Questo? Via, via, tre. Ok. Questa? Questa, sai che carina? Vero? Sei, dai. Questa? Questo direi nove. Nove, va bene. Allora butto giù questo. Beh, allora devo cercare qualcosa in lungo. Ma questo? Non mi convince molto il colore, direi un cinque. Ok. Questo? Questo è molto bello. Io gli darei un nove. Ok, allora questo. Ciao! Scarpe? Queste? Un sei. Ok, queste? Queste sono perfette. Queste? Queste mi piacciono. Ok. Ci manca un dettaglio, direi. I gioielli. Dobbiamo arrivare alla lode. Ah! Guarda! Ah, molto belli! Ci siamo! Kate, cosa dici di questo look? Promosso a pieni voti. nemmeno! Domenico... мерикennes movingортineWall dangerous. Adesso va far il leader. Bisous. Già. Di mancano. Di manco. Di man בש! Grazie.